Salve, sono urbano della San Moreno con il Vague Auli di Fuscecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture esate. Si tratta di questa Ford Focus Station Vero, quindi familiare. È una vettura 1.6 cilindrata turbodiesel cambio manuale dell'anno 2010, appartenuta ad un solo proprietario con chilometri certificati. Diamo un'occhiata a questo punto alla carrosseria esterna, intanto di questo colore bianco, sempre bello e brillante. E esternamente la vettura si presenta veramente in un'ottima maniera, con la vernice brillante, lucida, senza baccature, piccole se la macchina usata, ma esteticamente, esternamente la vettura è veramente molto molto bella. Vediamo anche le notazioni della nostra vettura. I fari, normali, sempre belli e lucidi. Il lega da 16 pollici con le gomme, sempre in ottimo stato e quindi tutto da sfruttare. Siamo a questo punto anche all'interno del nostro abitacolo e osserviamolo in tutta la sua completezza. Intanto, precedente proprietario non fumatore, quindi l'abitacolo bello e profumato e non ci sono i buchi di sigarette sulla tappezzeria. Guardate il cruscotto, con le plastiche sempre belle, lucide e senza graffe e senza usure, come è molto bella la console centrale. A livello di dotazioni troviamo il suo bracciolo appoggiagomito molto comodo, cambio manuale a 5 marce, climatizzatore automatico bizona e autoradio con il CD. Sul display centrale troviamo anche il tasto per attivare il bluetooth per il nostro cellulare per fare e ricevere le chiamate. Interruttori dei quattro vetri elettrici per l'accensione dei fari, sotto il volante il satellite per l'autoradio. Display centrale completamente funzionante, bello pulito e luminoso, dove c'è descritto anche il chilometraggio. I chilometri sono 178.586. Passiamo a vedere la tappezzeria nel suo specifico, guardate qua il tessuto, bello, senza strappi, senza usure e pulito, perché come il nostro solito le tappezzerie interne vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti quando entriamo all'interno del nostro abitacolo, l'accoglienza e lo stare all'interno ci stiamo veramente con soddisfazione, perché la pulizia proprio ci fa stare molto bene. Il bagagliaio bello, ampio, spazioso, con i sedili posteriori sdoppiabili e abbattibili, e poi la moquette bella e pulita, perché è stata lavata e igienizzata a vapore come l'abitacolo anteriore. Mentre sotto troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Anche il vanuotore, bello da vedere, pulito con tutti i suoi componenti al loro posto. Questo perché le nostre macchine usate, prima di essere messe in vendita, le vengono comunque controllate presso il nostro service. Dopodiché, una volta pronte e messe in vendita, ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. E adesso, salite il macchino insieme a me, andiamo a capare un giro di droga su strano. E quindi partiamo per il nostro giro di prova. Analizziamo un pochino alcuni aspetti. Allora, prima di tutto, posizione di guida ottima, comportevole, visibilità ottima, comandi molto morbidi, sia il pedale della frizione che la leva del cambio. Poi, analizziamo lo scorrimento su strada. Assetto stradale ottimo, guardate qua, se lascio il volante, volante dritto, vettura dritta su strada, ottimo rotolamento delle gomme praticamente senza vibrazioni, quindi la vettura vuol dire che scorre su strada in un modo veramente molto molto buono. Com'è ottimo l'insonorizzazione dell'abitacolo, sempre molto silenzioso e quindi compatto. Spazio interno, questa vettura ne ha veramente tanto, sia anteriormente, quindi per guidatore e passeggero, ossia posteriormente, per i passeggeri posteriori, oltre al bagagliaio che abbiamo già visto, che è veramente grande. Come si guida questa Ford Focus? Si guida in un modo veramente facile, come in questo percorso cittadino, come lo stiamo facendo in questo caso, risponde molto bene all'acceleratore, di conseguenza si traduce in estremità di facilità di guida. Però, anche sul percorso extraurbano, quando mettiamo la quinta marcia, il nostro motore 1.6 turbo-liser si trasforma in un ottimo viaggiatore, cioè con molta coppia e quindi anche lì la vettura scorre molto bene. Naturalmente, guidata questa vettura in un modo estremamente buono, anche i consumi sono veramente bassi. Questa vettura è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, insieme anche a provarla su strada, che è una cosa molto importante quando andiamo ad osservare una vettura usata. Quindi, non ci rimane che dirvi, telefonate e prendete un appuntamento. Dopo queste notizie, torniamo in sede per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi su social, Facebook e Instagram, nel nostro addirizzo Sani Cucicchio. Ora, questa Ford Focus è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, insieme anche a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri o mandateci un messaggio su WhatsApp, sempre ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre richieste. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura! Grazie! 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 Grazie!